Sì, ero solo perché i ragazzi, chiamiamoli così, cresciuti, avevano fatto piazza pulita di tutti gli insegnanti, proprio li avevano buttati fuori tutti, però a un certo punto hanno sentito, insegnavano tutto, ma la tecnica cinematografica ci voleva uno che la sapesse, e allora mi hanno chiamato, mi hanno chiamato, io Rossellini lo conoscevo solo di così, perché l'avevo incontrato due o tre volte, perché poi io ero piuttosto schivo a conoscere le autorità, perché mi davano soggezione un po', e insomma a Sto Rossellini dopo un po' che parlavamo ho visto che andavamo d'accordo, e allora là io sono rimasto un anno da solo, di tutto il centro, non c'era nessuno, io solo, e Rossellini naturalmente, e poi aspetta uno che era simpatico, di Gian Matteo, di Gian Matteo, bravo, bravo, comunque i ragazzi erano due cose, un gruppo non voleva più nessun insegnante, perché avevano un ricordo terribile degli insegnanti, capisci? E un altro gruppo accettava gli insegnanti, e allora modestamente, perché erano delle iene scatenate, capisci? Ho cominciato a prenderli e a cercare di inventare un sistema di insegnamento differente, perché guai se si copiava il passato, e abbiamo ragione, perché praticamente non facevano niente, andavano là, riscuotevano, c'era un numero di gente che riscuoteva come assistente, non avevi idea, ma c'eri già tu? Sì, c'eri già, beh, allora è inutile che racconti, no, no, raccontano, perché non lo devi raccontare e poi dall'esterno cominciavano a venire delle pompate dal ministero, eccetera, che non era giusto tenere una persona sola, niente per insegnare la fotografia, io a Pasolini ho insegnato la fotografia da solo, e il risultato alla fine era diventato bravo, perché lui in principio era partito con l'odio per la fotografia, sì, lui diceva sempre che sperava l'invenzione di una macchina piccola da poter, senza pensare che il cinema è una cosa collettiva, più mi allontano e più capisco che è una cosa collettiva, anche quello che facevo io, era sempre accompagnato da altri, anche se non volevo, perché proprio, io mi ricordo che c'era un macchinista che si faceva mettere sempre sul ponte, e in quell'epoca stavano facendo molti film antichi romani, quelle cose là, e lui sapeva la storia romana meglio del regista, capisci, e ogni tanto quando c'era l'intervallo sentivi questa voce che veniva dal ponte e che diceva no è sbagliato quello, però alla fine aveva ragione lui, capisci, il ministero era legato al regolamento e non pensava che era necessario cambiarlo, un po' come adesso, così, e allora faceva pressione e il nostro direttore mi ricordo Pioravanti che sembrava, non so, una barchetta in alto mare, che poi non poteva dar torto a Rossellini, è impossibile, d'altra parte non poteva neanche dare ragione ai ragazzi che volevano buttare per l'aria tutto, capisci, e quindi era questa situazione, però io modestamente me la son cavata abbastanza bene perché alla fine era un reparto, naturalmente non era più come prima, ma sa, molte volte prima c'erano i ragazzi che passavano il tempo a giocare a carte perché non c'erano neanche gli insegnanti, se c'erano, tu ti ricorderai, una cosa del genere, invece io c'ero sempre, e poi hanno cominciato a venire delle persone che erano del sistema, chiamiamolo così anche se non è vero, capisci, erano del sistema, e i ragazzi li accettavano, questi arrivavano facendo i rivoluzionari, naturalmente, capisci, e il primo mi pare sia stato appierto, intanto erano due, perché il ministero aveva un suo programma ben preciso, e ha avuto ragione il ministero perché ha vinto loro. Ora, i ragazzi, c'era una parte, erano, non dico moderati, ma erano d'accordo di costruire certe cose, non buttando via tutto quello che c'era, c'era una parte che non voleva niente, e che poi stranamente non sono riusciti a avere grande successo, quando sono andati sulla piattaforma, insomma, hanno avuto delle difficoltà, però è ritornato quasi come prima, mai come prima, però quasi come prima, con tutto quello che è successo. Io ho continuato a insegnare, ho continuato a fare le mie battaglie, che erano l'ultima battaglia e che volevo insegnare un sistema che faceva fare un passo avanti alla teoria cinematografica, e difatti era quella che serviva per fare i cartoni animati con le tecniche e cose, difatti mi hanno passato ai cartoni animati. Sì, al corso di cinema di animazione. Che lo faceva Giannini, faceva Giannini, e poi io facevo tutte le cose che non sapeva lui, e ci si scambiava in questo modo, soltanto a un certo punto io volevo insegnare la fisica di Bull agli allievi, che è indispensabile per il digitale, si sono opposti. Si sono opposti perché non la sapevano loro, capisci, solo per questo. E là c'è stato un battibecco e io non ho mollato naturalmente perché avevo ragione, come tu insegna una volta a fare le aste, perché io sono ancora di quelli che fanno le aste. Un po' così. E non mi ricordo che cosa sia successo. Ah, è venuto Bini, che è stato tutto quello che vuoi, però del cinema era uno bravissimo, perché io poi ho lavorato nei film di Pasolini con Bini e ti dico che intanto non era uno che interveniva perché credo che il cinema lui ne abbia fatto poco perché era un teatrante lui prima, però era intelligente, indubbiamente era molto intelligente. e mi è piaciuto che si sia suicidato. Quello mi ha dato un quattro, io sono contro il suicidio, perché penso che sia una forma di defezione più che altro. Difatti sono ancora qua. Dunque è arrivato Bini, il quale non ha fatto nessuna rivoluzione, però ha inquadrato il centro sperimentale che sembrava una cosa di sperduti. Sembrava. E con questo le cose funzionavano. E se non che sono venuti fuori i partiti tutte queste belle cose contro Bini, eccetera. E io con grande meraviglia di tutti ho appoggiato Bini. Perché aveva messo, per esempio, aveva tolto tutti quegli aiuti, aiutetti, aiutini che c'erano, che erano soltanto della gente legata a dei gruppi che era meglio non avere. È stato proprio per l'algebra di Bull, che io avevo cominciato a insegnare, anche se loro dicevano di no. Ho insegnato lo stesso poco tempo, perché poi mi hanno costretto ad andare via. Perché, capisci, sarebbe come studiare l'aritmetica senza studiare la legge dei numeri, per dirti. Una cosa del genere che non ha senso, no? Ma il motivo era che nessuno sapeva l'algebra di Bull. E allora c'era un buon motivo per mettermi da parte. E io non volevo andare via, ma a un certo punto è diventata più forte di me, perché hanno mandato via Bini, che era quello che mi teneva, no? E così sono uscito dal centro e mi è spiaciuto, perché ero affezionato, però affezionato agli ragazzi soprattutto, ma anche a certi amici che lavoravano nel centro, si era legato. Sai, sono sciocchette, ma sono cose che contano molto in una persona. Comunque ho trovato a lavorare moltissimo. Non ho mai avuto punti neri nella mia attività. Ma non è che mi dava molta fiducia. Ma no. No, perché non so come mai... Sai, quando tu stai a un centro sperimentale come quello, che era un buon centro, che Enricano per me era un buon centro sperimentale, un centro sperimentale che ti dava delle possibilità che nessuna scuola di cinema ti dava. Io ho imparato a odiare i cambiamenti. Mi è passata la voglia di insegnare, che mi piaceva insegnare, mi è sempre piaciuto. Perché penso che sia una delle funzioni dell'uomo che ha una certa cultura, di una materia o dell'altra, la stessa cosa. Credo che la più grande soddisfazione sia dare agli altri quello che hai tu invece, capisci? E ho sempre trovato degli allievi che hanno... non tutti, perché certi, specialmente le donne. Non so perché... Io non ho niente con le donne. Ma le donne sono sempre state con me un po' così. Perché io non ho mai fatto l'amore con le donne come certuni. Grazzini ha tentato un esperimento da giornalista, secondo il mio punto di vista. Però con me non andava molto ancora. Anche nei rapporti tra amici, capisci? Credo che ci sia un modus vivendi che bisogna sempre applicare. Perché non bisogna mai vedere in quello che ti sta davanti un nemico. Perché se vedi un nemico, già in partenza lo prendi da un verso che non è giusto prendere, capisci? E questa è una cosa che... Invece, al contrario, ho avuto tanta gente nemica. Especialmente quando c'è stata la storia della matematica di Bull, addirittura mi prendevano in giro e non c'era niente da prendere in giro, capisci? Comunque quella mi ha messo in situazione che a un certo punto, quando è andato via Bini e hanno cercato di impormi di non fare queste cose, io me ne sono andato. Mi è piaciuto, sai, non hai idea come mi è piaciuto. Non perché c'era la paga che ti davano, eccetera, così, no? Perché io guadagnavo lo stesso, se volevo. Ho perfino lavorato sul mangusta e credo sia raro. Effettivamente era una cosa molto difficile, perché dovevamo considerare la deformazione che subisce un aereo sparando determinati missili, eccetera, così. Ero io un altro e era un lavoro molto difficile, avrò studiato 6-7 mesi per arrivare. Io ho fatto fino al quarto anno di ingegneria meccanica. Dopo mi hanno chiamato alle armi e siccome mi hanno mandato in un posto dove era scomodo studiare, e praticamente sono stato, e poi siccome io volevo, anche se non ero assolutamente d'accordo con la guerra, con tutte quelle cose là e con il fascismo logicamente, ho sempre cercato di attenuare questi due scontri, perché l'importante era insegnare, fare che uno che viene senza sapere niente o sapendo poco, esca in condizione di non sentirsi a disagio davanti a una macchina presa. Hai capito? Questo era il mio modo di pensare. e naturalmente discussioni con i colleghi. Erano due anni più uno se volevano fare quest'anno e lo chiamavano, mi ricordo, supplementare, qualcosa del genere. Adesso invece i corsi durano tutti tre anni. Beh, ci sono più stipendi così. Per gli allievi bastano due anni, secondo te o ce ne vogliono tre o forse anche quattro. Non so, secondo te come... Dunque ti dirò, noi avevamo un anno speciale che lo faceva chi voleva farlo. E che non era poi tanto malvagio, anche se per conto mio il difetto della maggioranza degli insegnanti del centro è che non erano degli attivisti. In questo senso io facevo il centro, ma la mia maggiore attività era fare l'operatore. Io lavoravo sempre, lavoravo in modo sconsiderato, no? Perché io penso che ho fatto un lavoro per i giapponesi, no? No i giapponesi, ma sono la stessa cosa, i svizzeri. E sono stato quattro anni e mezzo in Svizzera. E facevo 16 ore al giorno di lavoro. 16 ore. Bene. E gli ho costruito una scuola, ricavandola da un rifugio atomico. E questa scuola insegnava quello che volevo io. Gavi sì, no che volevo io, che era giusto insegnare. E difatti so che sono venuti anche dal centro sperimentale a vedere questa scuola come era. Gli svizzeri hanno un difetto, che sono attaccati ai soldi. Però sono molto precisi. Molto più di noi. Capisci? E se tu... A me pagavano benissimo, ti dico. Benissimo. Ho mai guadagnato tanto e lavorato tanto. Perché la media era 16 ore al giorno. E poi c'era la riunione che tenevo. Perché ero diventato una specie di capo. Anzi ero il direttore tecnico del corso. E allora li riunivo in maniera che... Veniva una commissione tra tutte le idee e le cose e riuscivamo a farlo. Sono venuti anche molti stranieri a vedere questa cosa. E c'è ancora. L'ha presa la televisione svizzera. Quelli che escono dalla televisione svizzera escono da questa organizzazione a Lugano. Io l'ho presa che era privata. Sì. Erano due italiani e uno svizzero. E io sono rimasto là quattro anni e mezzo. Dopo quattro anni e mezzo, gli italiani visto che non si guadagnava abbastanza, se ne sono andati via. Era presa in mano il cantone. Ah, il cantone. La scuola funzionava modestamente perché c'ero io che imponevo gli insegnanti. E andavo a cercarli dappertutto. La maggioranza, naturalmente, italiani. Anche perché ero convinto che gli italiani sapessero fare il cinema quando lo facevano. Perché l'italiano è un cialtrone, tutto quello che vuoi. Però ha delle idee. È difficile trovare un italiano che si impegna in un lavoro che è impegnativo il cinema. Non c'è niente da fare. A meno che tu voglia perdere il tempo, diventare un miliardario. A me non è mai successo. Comunque la scuola andava molto bene. Mi ricordo che è venuto che era l'addetto della RAI per la scuola, mi pare. Ha detto scuola. Era della democrazia cristiana ma non di quelli che rompono le scatole. È venuto a trovarmi per vedere la cosa. Gli ho fatto vedere. È tornato via entusiasta e siamo diventati amici. Quando c'è stata questa cosa e Bini si è dimesso perché non accettava di rifare la cosa con i cento assistenti, delle cose così e voleva impostare come ha sempre fatto i suoi film. Era severissimo nei suoi film. Però era uno che capiva. Lui veniva dal teatro o meglio veniva dal fascismo. Era stato a Coltano che tu saprai che cos'era. Era la prigione di quelli che erano stati coi fascisti dopo quel coso. Lui era andato insieme, era un bersagliere del luce. Quando è venuto ha capito che era un'idiozia. Però lui continuava a dire che era fascista. Continuava a dirlo. Non in una voce alta, ma perlomeno lo diceva. E ti dirò che obiettivamente, a parte questo coso che non faceva pesare le cose, di fatti aveva preso anche a me. E lui mi aveva preso perché io prima lavoravo in uno stabilimento che faceva tutto. Si chiamava BNC Filmeco, l'avrai sentito nominare. Ecco, io ero il dirigente, il capo tecnico e l'avevo imparato un sacco di cose. e poi loro era un comandante che poi ho saputo che era un agente della CIA. Che era molto staccato così, però ti faceva fare tutto quello perché lui non sapeva niente di cinema. Allora se gli mostravi una cosa, era intelligente però. Comunque questa cosa qua a un certo punto sono diventato il capo di questa combricola. E lui aveva fatto allora, c'è la scassità di direttori della fotografia e tecnici in genere. perché erano una specie di clan che si passavano i lavori per cui c'era una scassità, paga e alte, una scassità di personale e anche una difficoltà, mancava la concorrenza che è comoda anche nella guida di una cosa dello Stato, la concorrenza. Insomma sono stato lì e noi facevamo, siccome non c'erano operatori alla macchina, non operatori alla macchina, operatori in genere, perché gli operatori esistenti cercavano di fare una specie di dumping, hai capito? Ecco, c'è quel gruppo e basta. Allora non c'erano mai posti. Allora quando un film funzionava, funzionava fino a che c'erano gli attori di primo piano. dopodiché gli attori che rimanevano se ne andavano e andavano a fare un altro film sempre sostenendo i costi. Non era brutta dal punto di vista loro la faccenda. e allora noi abbiamo pensato di rompere questo clan. Io conoscevo uno che poi si è scoperto che aveva una casa, una casa quando è venuta la legge della Merlin, no? Si è scoperto che lui aveva una casa, hai capito? Però io non devo dire niente, era bravissimo, andava sempre in America, non so per che motivo, e tornava così e praticamente merito su se ci sono, ancora usano le par come lampade, no? Perché lui andando la è venuto su, è venuto da me e mi ha portato una coppia di questo sistema di illuminazione, no? Che allora era comodo perché sai muovere, intanto i gruppi elettronici erano pochissimi, e poi era carissimo, e lui ha portato questa cosa e allora abbiamo cominciato ad andare a girare con le lampade e la corrente delle cose, in maniera che andavamo nelle case, attaccavamo la spina e avevamo l'alimentazione, capisci? E questa è stata la cosa, io ho lavorato moltissimo in questo campo perché io sono stato, devo dirlo, un lavoratore, io ho sempre lavorato, sì perché mi piaceva proprio fare le cose, sta di nozio, a me non, anche adesso cerco di fare le cose, solo a un certo punto mi cade un pezzo, e allora arriva mio padre e dice ma te l'ho detto che ormai sei un vecchio baboso, non puoi fare le cose così. Comunque ho cominciato con queste par, si chiamavano par, perché io avevo molto materiale, avevo anche una cosa, un eclair professionale, tutto mio, e adesso l'ho depositata al museo a Parma, sono dei liberi professionisti o impiegati, eccetera, che sono dedicati al cinema e hanno fatto recentemente con l'università, hanno fatto un'esposizione molto bella e devo dire la verità, certe cose io non le conoscevo, Adesso è uscito un libro, io avevo questo libro a casa, pronto, perché io l'ho scritto, ho cominciato che c'era ancora Pasolini, gli ho fatto vedere, andava bene, perché l'ho scritto in un linguaggio arcaico, per simulare una cosa che c'è ma che stava passando e poi per simulare Pasolini che aveva molto di arcaico nella sua attività. All'inizio con Pasolini, non so perché motivo non andava bene, io lo attribuisco al fatto che avevano fatto un film, il Vigile, un film che a me non piaceva, però Alicata che avrei sentito nominare, aveva scritto un fondo nell'unità dicendo che era una meraviglia, eccetera, eccetera, Invece questa meraviglia era il Vigile che poi a un certo punto, visto che le cose vanno come vanno, si adegua e va a cosa, era proprio un'idea che era contraria a quello che pensavo io, capisci? E però avevano paura, perché facevo sceneggiatore io, io avevo fatto il Negro a Sonego per diverso tempo, no? Sì, per esempio la spiaggia, te lo ricordi? Quello l'ho fatto io, certo, e sono venuto via perché non mi metteva mai il nome, capisci? E mi dava, mi pagava il ristorante dove mangiavo, basta, mi dava altro, allora a un certo punto mi sono stancato e ho smesso proprio di fare quel mestiere, sono passato a, mi sono messo a studiare un po' di tecnica, ne avevo abbastanza già per la scuola che avevo fatto, e sono passato decisamente dall'altra parte della barca, tutti si sono meravigliati, perché non sono cose che si pubblicano sul giornale. Comunque ti dirò che io sono andato a vederlo, questo film, e quando sono uscito ho trovato che c'era Sonego, Pasolini, erano insomma quattro pezzi da novanta, diciamo, che mi venivano incontro, e cosa, mi ha detto, ah come ti pare, ah ho detto sì, però sarebbe da parlarne a lungo, eccetera, e così. E quando sono arrivato ho dato la mano a tutti, eccetera Pasolini che non lo conoscevo, l'ho data per ultimo, lui se ne ha avuto a male, penso questo sia il motivo per cui per un pezzo non ha mai voluto fare, e invece mi è capitato di essere messo al direttore della fotografia delle cose, capisci? E lui non voleva saperne, mi faceva dispetti che non ti dico una cosa, e l'ho scritto nel libro, ho raccontato tutto, ho raccontato, però lui non sapeva niente di cinema, ha detto tra noi, però non è una cosa che mi meravigliava, perché tutti quelli che venivano erano dei neofiti, perché in genere erano intellettuali, eccetera, che non sapevano distinguere un ago da un chiodo, questa è la faccenda. Comunque sono andato avanti durante tutto il film, lo leggerai, adesso non lo so, perché ti dirò, sono in una situazione tragica con l'editore che non c'è, perché è una storia complicata, io non ho mai pensato di pubblicarlo così, perché era morto Pasolini e allora non volevo, l'ho finito in fretta e l'ho lasciato là, però ogni tanto lo facevo vedere a degli intellettuali, soprattutto perché sono i più terribili, e tutti mi dicevano, oh devi pubblicarlo, devi pubblicarlo, invece io non l'ho pubblicato, mi sembrava di essere un avvoltoio, se lo leggi leggerai il funerale, e lì attento, ho fatto sto film, è venuto bene. Qualche comizi d'amore? No, il primo che ho fatto, sì forse è comizi d'amore, perché ne ho fatti tre, il quarto ho rifiutato, non ho voluto farlo perché lui è andato in Africa, ha girato, poi arrivati qua, non so forse, non riuscivano più a farlo, allora mi hanno chiamato, e sai essere chiamato a fare la pezza a piedi non mi piace, e allora ho detto di no, non l'ho fatto. E dopo invece a un certo punto ho film, uccellati uccellini, ecco, mi hanno chiamato, e dopo un po' anche il nostro si è convinto che valeva la pena, e dopo mi ha chiamato altre volte, poi io gli ho fatto un film a lui, perché i giapponesi mi hanno dato per quattro anni un'esclusiva per il Giappone di bianca, e ogni mese dovevo mandare qualcosa di bianca, allora un mese ho pensato di mandare Pasolini, e gli ho fatto fare l'attore per punizione, è andato, ha avuto molto successo, era uno short che avevo fatto, e poi mi era venuto in mente di fare il film con lui, perché ormai ero stufo di stare alla macchina a presa, queste cose così, perché sei staccato, invece se hai la regia oppure il tutto fare, sei proprio dentro nel cinematografo, e abbiamo preso Pasolini, visto che aveva avuto successo il suo film in Giappone, era entusiasta di sto film che gli avevo proposto, eccetera, eccetera, e avevano già provato i giapponesi, solo si doveva parlare, lui invece stava facendo l'ultimo film che ha fatto, sono andato a Coso, che stava girando il film dell'acqua sporca, e appena mi ha visto mi ha abbracciato, e ha detto così, senza altro, abbiamo avuto un appuntamento, solo che io lavoravo molto in quell'epoca, perché oltretutto scrivevo, facevo altre cose, e poi facevo gli aeroplani, tra l'altro, a un certo punto, si dicevo, sono andato là, mi ha abbracciato, eccetera, eccetera, e si siamo messi d'accordo per vedersi, perché lui doveva finire prima sto libro, sto film, io avevo da fare, e lui era in Moviola, una volta sono andato in Moviola, ma lui doveva lavorare, e allora abbiamo rimandato, e rimanda, rimanda, lui è morto, una mattina mi ha telefonato un regista sieriano, che conoscevo, e gli dicevo, sai che hanno ammazzato Pagliolini, che poi ti dirò che prima o poi, io ero certo che, sai, chi vi lavora col fuoco, una volta o l'altra si scotta le mani, e io gli dicevo, ma perché si può anche cambiare il soggetto, non andare a trovare proprio questa gente, che erano quello che erano. Mi ricordo una volta, che giravamo proprio uccellini e uccellacci, avevamo fatto quella scena, dove ci sono tutti gli intellettuali, che fanno gli imbecilli, era stata una scena faticosa, perché lui voleva non correggere mai la luce, e siccome c'erano tre grandi locali, dove ci sarà stato complessivamente, una cinquantina di intellettuali veri, veri. Allora io avevo fatto il sistema, e la cosa funzionava, funzionava, e a un certo punto lui era stanco, ma io non ero stanco, e allora mi ha detto, lei è stanco, perché ci davamo del lei fino alla fine, Sì, 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 e lui in principio, il Vago mi salutava certe volte, perché le disegni del tu, no, no, era la stessa, comunque era la stessa cosa, e niente, abbiamo fatto la scena dei cari, quello che Totò non volevano farglielo fare, e abbiamo portato assai, sì, perché comunque ne parlo anche in questo libro, perché in questo libro dico tutto quello che... e ti dirò che me l'hanno rubato, questo libro, e hanno pubblicato tre o quattro libri da questo libro, e io sono stato un po' così, e poi l'ho pubblicato lo stesso, perché tutti gli amici dicevano pubblica, e l'ho pubblicato, però l'ho fatto male, perché avevo sempre delle difficoltà, eccetera, però il libro è venuto fuori, sono sempre in discussione, perché io ho dato, da fare la prevefazione, l'ho dato a fare a una tale, che conoscevo perché era la mia coinquilina, che era una che studiava all'università, e poi aveva lasciato l'università, e allora io l'ho convinta a riprendere l'università, e studiare, e lei si è messa a fare il teatro un po', e era abbastanza brava, scriveva nelle varie riviste, così, e invece di prendere un luminare, che potevo prenderlo, ho preso questa qui, questi non volevano dare, perché volevano darmi una prefazione già fatta da un loro regista, tra virgolette, capisci così, e io niente, insomma alla fine hanno cominciato a diventare prepotenti, e io guarda perdono tutti, eccetto che i prepotenti, i prepotenti proprio non li posso sopportare. Quella cosa di uccellaci e uccellini, allora c'era una specie di certame, per rimanere nel classico, e tra me e Pasolini, perché Pasolini voleva far vedere che io mi stancavo, e aveva proprio sbagliato, capisci, difatti alla fine ha dovuto curare la cosa, e a dire no, io non ce la faccio più, capisci, dovevamo fare questa scena, e lui ha capito perché ha messo i cinesi, che mangiavano i nidi di rondine, poi sono andato in Cina, ho visto che mangiavano certi pranzi, che non finivano più, comunque l'idea era buona, di prendere gli intellettuali, e dire veramente cosa sono, capisci, e ha scelto dei volontari, molti si sono ritirati a un certo punto, ma i volontari che facevano discorsi senza senso, le cose così, insomma praticamente facevano la figura dei pagliacci, come dovrebbe, come è, e insomma, il lavoro è andato bene, perché nessuno si è ritirato, malgrado proprio passassero per imbecilli, come effettivamente la maggioranza sono, e poi c'era il finale dei cani, dunque, la cosa a me ha dato fastidio Pasolini, perché Totò e Ninetto, erano in un'anticamera, perché ti ricordi il film, ecco, quelli erano due, padre e figlio, che avevano, avevano, un potere, eccetera, non avevano i soldi di pagare, perché era andata male la cosa, e allora andavano dal padrone, e per far vedere l'umiltà, il padrone veniva seppellito, i due non padroni, diciamo, venivano seppelliti con due cani, che erano veramente dei cagnacci, no? E là ho dovuto approfittare Totò, il quale, la produzione aveva chiamato la comparsa, eccetera, e invece, Totò diceva, no, no, voglio farlo io, voglio farlo io, allora gli hanno detto, no, che è una cosa pericolosissima, e gli dice, allora voglio proprio farlo, perché mi dispiace se un mio amico viene danneggiato per fare una cosa mia, e lui l'ha fatto, l'ha fatto, erano gli ultimi tempi, non vedeva più niente, perché quando hanno fatto, sotto a colori, ecco, per il, beh, non voglio dire male a nessuno, ma hanno usato delle luci troppo forti, e lui, che era un grande attore, guardava le lampade, perché devi guardare le lampade, così ti brillano gli occhi, eccetera, eccetera, e gli hanno bruciato gli occhi, per cui io, quando lui si spostava da un posto all'altro, per esempio in un campo, eccetera, dovevo mettere una spot, sapete tutti cosa è una spot, come quella, dove lui doveva arrivare, allora lui vedeva questa macchia di luce, e seguiva la macchia di luce, era un lavoro abbastanza complicato, poi lui era già vecchio, di fatti è morto poco tempo dopo, e in un campo, per esempio, dove c'è l'erba, ogni tanto si inciampava, allora dovevi rifarla, così, però, Ligio, Totò, era un carabiniere, quando faceva le cose, preciso, poi non ho mai sentito lamentarli, perché Pasolini, faceva ripetere 50 volte a Ninetto le parti, perché voleva che recitasse come Totò, ma per recitare come Totò, bisognava essere Totò, non c'era possibilità, allora faceva 18, 19 battute, dicia, che sai, che, e, lui, non ha mai detto, bah, mai detto, bah, sempre zitto, le cose, poi aveva preso a, 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 che ha mai raccontato tutta la sua storia, è una storia affascinante, come cosa, ecco, un'umiltà che sembra che ti racconti la storia di, di, di sto pezzo di ferro, e, così. E,